Un'entità di scosse che se l'edificio è costruito con tutte le regole che abbiamo a disposizione non ne dovrebbe risentire, questo è il senso? Sì, risentire sì, ma senza danno. Le scosse di terremoto che hanno interessato il territorio dell'Impruneta nel Fiorentino sono state avvertite, alcune peraltro non tutte, anche nel territorio aretino. Per fortuna nessun danno, noi abbiamo però parlato di questo fenomeno con Thomas Brown, sismologo che si trova presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Arezzo che ha sede a Villa Severi. In tutto quattro le scosse avvertite distintamente dalla popolazione, la più importante è quella delle 17.50 del 3 di maggio di magnitudo 3.7, poi un'altra intorno alle 22 di magnitudo 3.4 e ancora alle 23 con magnitudo 2.7 e alle 7 del mattino con magnitudo 2.4, circa 30 le scosse rilevate dall'Istituto. Ci sono delle fallie che sono ottonali alla torsale peninica e quindi uno si può immaginare una fila di macchine che stanno al semaforo con 4-5 cozie, diventa verde, tutti partono ma non partono, tutti con la stessa velocità. Un settore è più veloce dell'altro e questo movimento trasversale tra un settore e l'altro è più o meno una delle faglie che si sono attivate per accomodare lo stress dell'allontanamento della parte atriatica dell'appenino da quella tirenica. Come definite questi movimenti? Qualcosa che vi potevate aspettare? Qualcosa di tra virgolette normale o qualcosa di straordinario? Ci sono ogni tanto delle sequenzine, come dicevo prima, Certaldo Castelfiore e Tino Greve, che fanno il 3.5, 3.7, anche il 4.2 e dopo ci sono tutti gli aftershock che in maniera simpatica vengono spesso chiamate scorse di assestamento, ma non sono di assestamento, sono terremoti veri e propri e quindi per quest'area è caratteristica questa osservazione, questo fenomeno.